Benvenute e benvenuti, sono Aurora Ferro, vi saluto e vi ringrazio a nome della Fiera delle Parole dell'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. Da oltre dieci anni collaboriamo alla realizzazione di un programma di incontri che attraverso la lettura e i libri intende avvicinare le nuove generazioni a una cittadinanza più critica e consapevole. Libri e argomenti eterogenei, come avete visto nel programma, ma comunati dall'impegno civile e dal servizio alle comunità. Ringraziamo Piero Martin per aver accolto l'invito del Festival e della sua disponibilità all'incontro che sta per iniziare. Piero Martin è un professore ordinario di fisica sperimentale all'Università di Padova, attualmente distaccato presso il centro interdisciplinare BSEGRE dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Studia la fusione, quale sorgente di energia, fellow dell'America Physical Society. È stato responsabile scientifico di grandi progetti internazionali e oggi coordina le attività di fisica di DDT, di nuovo il grande esperimento di fusione italiano. Scrive per la stampa e la voce punto info e ha vinto il premio FUG Scienza. Ha pubblicato l'Era dell'Atomo, Zerologia e Trash, tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti. Per la terza autore di Le Sette Misure del Mondo. L'errore è qualcosa che nessuno tollera, riconosce o perdona facilmente, ma è impossibile evitarlo. Questo libro ci invita a considerarlo sotto una nuova luce, non solo l'errore a parte inevitabile della vita, ma spesso si rivela un prezioso alleato del nostro percorso di scoperta. Attraverso un affascinante viaggio tra memorabili inciampi della scienza, l'autore dimostra che sbagliare non è solo umano, ma può essere estremamente utile. Comunemente la scienza viene vista come il regno delle certezze e della verità assoluta. Eppure il dubbio e l'errore sono pilastri fondamentali per il progresso del sapere. Proprio come nella vita quotidiana, anche nella scienza l'errore assume diverse forme. C'è quello che spinge verso nuove scoperte e quello nato dalla fretta o da convinzioni sbagliate. In queste pagine esploreremo storie integranti di chimica, biologia, medicina e fisica, dal punto di vista di chi ha sbagliato. Incontreremo scienziati dal calibro di Fermi, Einstein e Pulling, insieme a studiosi meno noti, scoprendo che anche i più grandi hanno commesso errori. Questo sarà un incoraggiante promemoria. Sbagliare è parte del processo creativo e della crescita umana. In un'epoca che fatica ad accettare l'errore, è importante rivalutarlo e riconoscere il valore. Lunga vita all'errore. Vi ricordo inoltre che il libro potete trovarlo qui a destra per eventuali firme dopo, se volete. Buon ascolto. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Allora, io non resisto, dovendo cominciare a sedermi, ma giuro che lo faccio con estrema delicatezza, sulla tastiera e il pianoforte. Appena, 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 anzi no, non lo faccio, ma immaginate che lo stia facendo. Perché il libro comincia esattamente con queste parole che vi leggo, perché è una citazione testuale. Stavo per cantare il primo verso di questa celebre canzone, quando ho notato che c'era un pianoforte accanto al microfono. Cioè, eravamo esattamente in questa situazione. Mi sentivo stanco. Ero stato sveglio tutta la notte per qualche motivo. Io in realtà ho dormito bene stanotte, quindi non so, però per motivi di scena faccio finta di essere stanco. Quindi mi sono seduto. Pensavo che il coperchio della tastiera, questo qui vedete, fosse chiuso, ma era aperto. E quindi ho finito per interpretare questo incredibile accordo col mio sedere. Cioè, se sei seduto, badabom. Ecco. Era quella sorta di cluster atonale che funzionava davvero bene in contrasto con gli accordi che stavamo suonando. Abbiamo pensato che fosse divertente. Quindi l'abbiamo lasciato nella registrazione. Allora, a raccontare questa storia, è un cantante decisamente più famoso di me, che si chiama Sting. Magari voi siete un po' più giovani, ma insomma lo conoscete. È un signore che è suonato nei polissi, insomma, è abbastanza noto, ecco. E tra i tanti successi, verso la fine degli anni 70, i polissi hanno scritto questa canzone che si chiama Roxanne, che è molto nota, insomma. E se ascoltate con estrema attenzione, ma ci vuole molta... Diciamo, su YouTube trovate i video in cui viene rallentato e quindi si capisce. Cioè il quinto secondo di Roxanne sta cominciando la melodia e si sente, ripeto, va ascoltato, cioè bisogna sapere che c'è comunque, ma si sente una serie di note completamente... proprio qualcosa del genere, no? Completamente fuori posto, che non c'entrano niente con la cosa. Questa, quella roba lì, è il... Io poi nel libro l'editore mi ha detto scriviamo sedere, ma lui nell'intervista, lo trovate di Sting, lo trovate in internet, chiama Ass, il mio culo, e sono suonate col culo di Sting. Cioè lui era in sala di registrazione, stava registrando e si siede, per sbaglio, come racconta, questa cosa che vi ho letto è proprio la trascrizione della sua intervista, si siede, per sbaglio, sulla tastiera del pianoforte. Naturalmente il fonico, gli vengono i cappelli dritti e quando finisce dice, senti, rifacciamo perché la registrazione appena il disco, e lui dice, no, no, come diceva nell'intervista, è una cosa simpatica, ha detto lasciamola. E quindi da un errore nasce un gigantesco successo, poi, perché Roxanne è diventata, come si dice, una hit, no, davvero, davvero importante. E questa era, insomma, ovviamente non l'avevamo assolutamente programmato, io non sono capace di suonare il pianoforte, se non col culo, ecco. E però ci stava proprio bene come inizio, perché poi è l'inizio del libro, che dove comincio, io in realtà, sapete, di mestiere faccio il fisico, insomma, no, faccio lo scienziato, ma in realtà poi nel libro racconto storie, insomma, no, la parte della fisica naturalmente la riservo per il lavoro, e nel libro racconto storie. Un'altra, mi chiedevo, e diciamo, avevo il dubbio stamattina che, diciamo, i nostri principali uditori, siete due classi del Fermi, no, mi pare di capire, lo conoscessero per motivi, diciamo, banalmente anagrafici, cronologici, ma adesso faccio questo esempio. Il film Lo Squalo vi dice qualcosa? Anche, fate conto, è stato girato nel 75, quindi, insomma, aereo geologiche, no, prima del vostro anno di nascita. Dunque, siamo al 2024, voi cosa siete del 2008, 2009, 2007, 2006, ecco, quindi, insomma, praticamente 30 anni prima di voi, no? Sto pensando a quali film venivano girati 30 anni prima che nascessi io, forse non c'era neanche il film in cinema, ma comunque, lasciamo perdere. Comunque, insomma, Lo Squalo è famoso, se non altro, perché è passato in televisione, no? Dieci miliardi di volte. E l'ha scritto, l'ha diretto Steven Spielberg, insomma, è diventato davvero uno dei film di maggior successo, insomma, iconico nella storia della cinematografia. Se ricordate, la storia, insomma, non faccio grossi spoiler, ma in questa cittadina, in una ridente isola della costa est degli Stati Uniti, sul mare, a un certo punto d'estate, arriva un gigantesco squalo che comincia a mangiarsi bagnanti, i semi nel terrore, come sempre, poi si intrecciano mille vicende, la storia d'amore, la storia in cui quello che dice so come liberarci dello squalo non viene ascoltato, vengono mangiati altri 3-4 bambini, insomma, c'è tutta una cosa di... È un film horror, diciamo, horror poi di avventura antelittera. Non vi dico come finisce, tanto l'avete visto, insomma, ma ovviamente finisce bene, ecco. Comunque, un aspetto, se vi capiterà di riguardarlo, osservate una cosa, lo squalo in sé, che è questo bestione gigantesco, no? Veramente, insomma, da decine di metri, proprio un squalo che fa davvero terrore, non si vede quasi mai. In due ore di film, i minuti dedicati all'inquadratura dello squalo sono pochissimi, veramente molto pochi. La maggior parte delle scene, quelle più, soprattutto quelle che fanno più terrore, che danno più paura, sono scene viste con gli occhi dello squalo. Ce n'è una, probabilmente, forse la più famosa, estate, tutti questi bagnanti, ragazzini, no? Che stanno nuotando, e da sotto l'acqua si vede con gli occhi dello squalo tutte queste gambette, no? Quei salvagenti che nuotano, e bella giornata di sole, luglio, no? I gelati che aspettano, le mamme che chiamano, no? I bagnanti, e a un certo punto, apre sta bocca, se magna quattro bambini, si porta via pezzi di gambe, insomma. Ecco, quella roba lì, che diventa poi iconica nei film dell'horror, cioè di guardare con gli occhi del, diciamo, non tanto di vedere, cioè di vedere l'orrore con gli occhi di chi lo provoca, è stato frutto di un gigantesco errore di progettazione. Perché quando Spielberg decide, insomma, gli viene affidato il compito, fa costruire due squali meccanici. Ultimamente è uscito, magari qualcuno l'ha visto, un sequel, cioè ne sono usciti un certo numero, ma negli ultimi anni è uscito quello del megalodonte, no? Ce ne sono stati uno o due, forse l'ultimo anche un paio d'anni fa. Naturalmente oggi siamo abituati a vedere le cose con gli occhi degli effetti speciali, cioè con l'idea che oggi si costruisce tutto il computer, insomma, quindi tutte le scene... Ma voi mettetevi nel 75, in cui non si usavano gli effetti speciali, e le riprese si facevano con le sagome, proprio lui, Spielberg, fa costruire due squali, una decina di metri, in resina, con in telaiatura di acciaio, e con tutto un sistema elettromeccanico per farli inabissare, per farli tornare su, per fargli aprire la bocca, no? Insomma, è proprio, come dire, non c'era nulla di informatico, era proprio tutto elettricità e meccanica. Lo provano, sono tutti contenti, lo provano in piscina, perché naturalmente sta ditta, fa il collaudo, e qui sta l'errore, perché si dimenticano che questo oggetto dovrà funzionare in acqua di mare. L'acqua di mare è salata, e quindi comincia a corrodere più rapidamente la circuiteria, e cominciano a fare le bizze la parte elettrica, in più viene anche fatto un errore di progettazione sulla distribuzione dei pesi, per fare in breve, comincia ad andare in tilt tutto il sistema elettrico, e in più questo squalo galleggia in maniera strana, per cui si narra che alla prima ripresa in cui c'erano tutti, e tra l'altro aggiungiamo che erano fuori dalle coste in Massachusetts, quindi in oceano, in un posto insomma anche con parecchie onde, c'è il cameraman tutti pronti per fare questa ripresa in cui lo squalo doveva, no, i tecnici lo fanno uscire, perché lui spalanchi la bocca, con questi dentoni a guzzi, in realtà è una terrificante scena, perché lo squalo esce con la coda, esce la pinna caudale, e quindi è una scena da fantozzi praticamente, allora si aspettava un nostro squalo, esce il culo, e quindi veramente entra, come dire, c'è il panico, perché era una produzione da un sacco di soldi, il protagonista principale galleggiava, anziché andare sotto, o si muoveva in maniera strana, sarebbe stato veramente un disastro, e lì ecco il genio di Spielberg, che di nuovo trasforma un errore, perché si capisce subito che è un errore di progettazione, trasforma un errore in una grandissima opportunità, decide, ormai i squali non si fa più tempo a ricostruirne, allora cosa dice? Vabbè, allora guardiamo la scena con gli occhi dello squalo, quindi a questo punto diminuiamo al massimo il numero di inquadrature dello squalo, le riduciamo a quelle che riusciamo a fare con lo squalo che abbiamo, ma tutto il film viene visto con gli occhi dello squalo, in soggettiva, come si dice, e questa è, se vogliamo, un'innovazione che da lì in poi entrerà nella storia della cinematografia, e quindi che trasforma un, come dire, un errore in una grossa opportunità. Ecco, queste due, diciamo, storie sono proprio quelle che racconto all'inizio, perché con l'idea di, come dire, ricordare un punto fondamentale, che gli errori in realtà li commettiamo tutti, no? Cioè, gli errori fanno parte della vita, non c'è niente da fare, sono, sono, come dire, se pensate, no? Il nostro vivere stesso è un errore, noi partiamo e, la nostra territoria, siete giovani, e poi, chissà quale sarà i vostri percorsi di vita, no? quante strade prenderete, alcune giuste, alcune sbagliate, alcune più piacevoli, altre meno piacevoli, insomma, ci sarà tutta una serie di movimenti, un errore, no? Che proprio ha la stessa radice dell'errore, nell'errare, nel vivere, si sbaglia, cioè c'è poco da fare, non, perché altrimenti uno sta seduto in cucina, sulla sua sedia, non si muove e certamente errori non ne fa, ma magari anche non si muove tanto, cioè non vive neppure, senza contare che poi se ci pensate bene la nostra vita, così come siamo oggi, è un risultato di una catena di errori, no? Il mio amico e collega Telmo Pievani che racconta di evoluzione vi racconterebbe come in realtà il DNA si è via via modificato con una serie di mutazioni che ci hanno reso quelli che siamo oggi, che ci hanno differenziato dai nostri antenati, che ci hanno fatto crescere circa 6.000 anni fa il cervello, insomma, e quindi ci hanno fatto diventare essere l'homo sapiens, essere i più senzienti, insomma, cioè, c'è più di 6.000, scusate, e quindi veramente ci ha fatto diventare quello che siamo. Errori che possono anche causare gravi danni, perché una mutazione delle cellule naturalmente può purtroppo causare che ne so anche un tumore magari, quindi, però ecco, l'errore è comunque qualcosa di fortemente connaturato con la vita. però, nonostante questa cosa, che a questo punto, insomma, credo che, adesso io l'ho detta, ma credo sia ovvio un po' per tutti, c'è un aspetto, io mi sono portato qui una serie di attrezzi, di cartoleria, insomma, che senz'altro avete, che sono in realtà simbolo di quello che è il nostro rapporto con l'errore. Se ci pensate con i nostri errori, noi usiamo gomme da cancellare, no? E qui abbiamo, c'è tutto il campionario, c'è la gomma da cancellare, c'è la matita col gommino sopra, no? Vari tipi di bianchetto, che secondo me a scuola è assolutamente vietato, quello a penna, quello a strisciolina, quello a pennellino, c'ho tutto, c'ho anche la gomma pane che stamattina ho scoperto, sapete cosa serve la gomma pane? L'ho scoperto stamattina. Prego? Sfumare, perfetto, io non lo sapevo, vede, me l'hanno insegnato stamattina, si prendono dei pezzettini e si riscaldano e poi quando si disegna con la matita c'è l'insegnante, come ti chiami, scusa? No, no, di nome, di nome, Dragos, ecco Dragos, c'è l'insegnante di Dragos perché direi che insomma come minimo sa che si sfuma, ecco, Dragos, facciamo un otto, ecco via, glielo possiamo dare, via, io non lo sapevo, comunque sì, per chi disegna con la matita se c'è un tratto troppo intenso si tampona, ho scoperto, e si, in qualche maniera si modifica il tono di grigio, comunque, era solo per dire, ah beh, poi c'è questa anche, questa è la penna degli appassionati della settimana enigmistica, ma secondo me è vietata pure questa, che è la penna che si cancella anche, la piro che si cancella, ma, insomma, solo per dire che in realtà noi abbiamo un rapporto non particolarmente buono con l'errore, no, nel senso che i nostri tendiamo a cancellarli, il più possibile a mettere sotto il tappeto, quelli degli altri in realtà tendiamo a indicarli, perché se per caso, che ne so, Dragos mi avesse detto che la gomma pane, no, si usava per tocciarla dentro l'olio, insomma, per mangiarla, no, come il pane fa scarpetta dopo la pasta asciutta, e mi ha detto, eh, cosa ha detto, no, cioè, perché poi abbiamo questo duplice rapporto con l'errore, i nostri tendiamo a nasconderli, quelli degli altri tendiamo invece a indicarli, no, nonostante, nonostante siano, come dicevo, una parte integrante della nostra vita, allora qui, ho scoperto, e viene, viene bene, insomma, ma, come, un po' per caso, mi pare di capire, le due classi che sono qui sono del Fermi, dico bene, boh, allora, c'è l'insegnante di matematica, di fisica? Perfetto, allora, ottimo, allora adesso, fate una bella figura a Dragos, abbiamo già sentito, chi era Fermi? No, mi raccomando, cioè, cosa ha fatto Fermi nella vita? Oltre a dare il nome al vostro liceo, ecco, che ha fatto il fisico, no? E, ha fatto il fisico, ed era un fisico anche peraltro abbastanza noto, abbastanza famoso, sapete, ha vinto il premio Nobel, nel 1938, e giovanissimo, Fermi è del 1901, ed è, diciamo, il fondatore, il maestro dei cosiddetti ragazzi via Panisperna, questo gruppo di scienziati fisici e chimici molto giovani, fra i 20 e i 30 anni, che agli inizi degli anni 30 hanno sostanzialmente rivoluzionato, fatto nascere, direi, sono i propri padri della fisica nucleare moderna, se oggi abbiamo le centrali nucleari, conosciamo come è fatto il nucleo, e così via, è grazie molto anche a questi ragazzi, no? E, ragazzi che, insomma, erano giovani, ricercatori, Fermi era il loro maestro, e aveva 32-33 anni, e bene, comunque, insomma, Fermi è un personaggio noto, importante, ma allora c'è un aspetto, perché ve lo racconto, sia perché le vostre scuole, insomma, la vostra scuola è quella, ma anche perché Fermi, dunque, voi quando fate l'interrogazione di matematica o di fisica, no? Per esempio, voi in che classe siete adesso? Quinta, quindi, insomma, fisica è importante, no? Immagino, E l'interrogazione di fisica è, diciamo, se il professore vi chiede, mi enunci il secondo principio della termodinamica, e voi dite, il secondo principio della termodinamica afferma che il calore fluisce spontaneamente da un corpo freddo a un corpo caldo, insomma, no? qualche dubbio magari vi viene da un corpo caldo o un corpo freddo? O fra due corpi caldi o fra due corpi freddi? No, uno comincia ad andare in panico e non si ricorda più qual è la risposta giusta e magari fa un errore. Dopo, mi raccomando, andate a ripassare qual è quella giusta, eh? e allora il problema è che un signore come Enrico Fermi, premio Nobel per la fisica, commette un errore abbastanza importante nell'interrogazione della vita, no, l'interrogazione più importante della sua vita, che per un fisico è la lezione che fa quando gli viene conferito il premio Nobel. Lui nel 1938 vince il premio Nobel per una serie di risultati relativi alla fisica nucleare, appunto in particolare alla realizzazione di una tecnica che è quella dei neutroni lenti per indurre la radioattività in un grande numero di elementi. Va a Stoccolma, tiene la sua lezione magistrale, perché quando uno vince il Nobel tiene la lezione magistrale e durante questa lezione racconta questi risultati molto importanti e commette un errore. Non è un errore fondamentale, non è così grave come quello del secondo principio della termodinamica di cui vi ho parlato adesso, no? È un errore diciamo veniale si direbbe, nel senso che lui viene premiato per un grande corpo di risultati e tra questi diciamo ce n'è uno che è sbagliato. No, la maggior parte sono giusti ma uno è sbagliato. Lui sostiene di aver scoperto insieme ai ragazzi via Panisperna questi due nuovi elementi più pesanti dell'uranio. L'uranio all'epoca era considerato l'elemento più pesante a un numero atomico di 92 e lui dice abbiamo trovato elementi con numeri atomici 93 e 94 che vengono ribattezzati secondo così la retorica nazionalistica dell'epoca come Ausonio ed esperio tiene la lezione ne parla racconta di questa cosa e poi lascia di ta cioè da Stoccolma va prima a Copenaghen a trovare Niels Bohr un altro grande fisico di cui senza l'altro avete parlato e da lì si imbarca per la Stati Uniti dove passerà il primo periodo del suo soggiorno statunitense la Columbia University a New York qui apro una piccola parentesi prima di ritornare all'errore di Fermi all'interrogazione di Enrico Fermi per ricordarvi voi sapete come mai dopo la dopo la Consiglia Nobel Fermi non torna più in Italia perché era il 1938 come sento qualcuno di voi già sta dicendo e pochi mesi prima erano state approvate dal governo fascista le leggi razziali nel settembre del 1938 era uscito questo decreto sulla gazzetta ufficiale che era stato il primo voi sapete c'era stato prima qualche mese prima il manifesto degli scienziati per la razza purtroppo gli scienziati fanno tante cose giuste ma anche fanno cose che devono abbondantemente vergognarsi e questa è stata una dell'età una di queste e poi comincia purtroppo la parabola che poi porterà all'orrore della Shoah anche in Italia e quindi vengono promulgate le leggi razziali il primo decreto è quello che proibisce stiamo parlando a un pubblico di studenti l'accesso alla scuola sia come allieve allievi sia come professoresse professori alle persone di ebrei e che quindi vengono vengono cacciate no questo decreto viene pubblicato appunto nel 38 e anche questo secondo me è interessante fate questo esercizio magari se avete un attimo in classe vale la pena se andate a cercare sul sito del Parlamento mi pare del Senato comunque lo googlate viene facile cercate la gazzetta ufficiale con questo decreto del settembre 38 le prime leggi razziali sulla scuola che sono molto devo dire hanno molto a che fare anche con il vostro mondo ebbene sono contenute è un un trafiletto sapete la gazzetta ufficiale è fatta di due colonne una paginata a due colonne è una colonnina con 5-6 articoli e non so se vi avete mai sentito parlare di questo concetto che viene spesso citato della banalità del male tante volte il male è qualcosa che ha degli aspetti banali che quasi sfuggono ebbene questo articolo compare fra due altri decreti legge uno che disciplina l'attività molitoria cioè il regolamento dei mulini per macinare la farina cioè una cosa molto tecnica di agricoltura e dopo viene un decreto per l'istituzione una festa patronale in campania per un santo che non mi ricordo anche qual è cioè fra due come dire norme di ordinaria amministrazione compaiono 5-6 articoli che come dire definiscono impersonano l'orrore perché da lì da lì poi nascerà appunto come dicevo tutta la persecuzione verso gli ebrai in Italia e quindi ecco questo vale la pena ricordarlo perché poi insomma questa è storia e va sempre la pena tornare un po' indietro ma è storia ma che conta anche adesso perché tante volte anche il male si annida dalle cose ovvie dalle cose a cui non si dà non si dà peso e invece purtroppo ha a che fare molto anche con poi anche dalle cose a cui non si dà molto peso si arriva anche a questo perché poi questa cosa qui incidentalmente l'altra cosa che vale la pena di ricordare perché anche questo insomma sono pezzi di storia questo decreto è firmato perché poi alla fine sapete i decreti ancora oggi è firmato Mattarella Presidente della Repubblica all'epoca le firmava il re ebbene questo decreto è firmato a Vittorio Emanuele III re d'Italia insomma e quindi se ci viene a volte qualche dubbio se abbiamo fatto bene a scegliere la Repubblica e la Monarchia nel 45 insomma ecco forse magari ecco dare un'occhiata a questa cosa qui diciamo non rimane come una grande momento di di orgoglio ecco per la casa Sabauda però ecco detto tutto questo torniamo a Fermi la moglie di Fermi era ebrea Laura Capone era ebrea e quindi chiaramente Fermi che avevano già due figli all'epoca comincia a capire che la situazione è grave purtroppo e decide quindi di lasciare l'Italia insieme alla sua famiglia e la consegna del Nobel è un'ottima un'ottima occasione perché ovviamente gli viene dato il visto per andare a Stoccolma e da lì lui non farà più ritorno in Italia anche qui un altro piccolo pezzetto di storia che magari già conoscete insomma vale la pena ricordare di nuovo visto il nome che ha il vostro liceo se andate a osservare la foto della consegna sono delle foto della consegna del premio Nobel sono molto interessanti perché per due motivi uno come dire più così di costume Fermi in quella foto a 38 anni voi guardatela sembra mio nonno insomma però è giovanissimo cioè lui vince il Nobel e lì a 38 anni e poi l'altro aspetto meno eclatante ma che all'epoca fece un gran rumore è che lui era vestito in frac vabbè ho detto se uno vince il Nobel si va vestiti così insomma io ho avuto la fortuna perché c'era il Covid quindi l'hanno consegnato a Roma il Nobel a Giorgio Parisi si va non so mai se capiterà che noi vinceremo il Nobel ma dovessimo vincere questo compranci in frac per gli uomini insomma per le donne comunque lui è vestito in frac quindi sembrerebbe niente di strano ma in realtà questo sarà un motivo di grandissimo scandalo perché Fermi era un accademico d'Italia e eravamo in epoca fascista lui avrebbe dovuto vestire la divisa degli accademici e quindi la divisa con le mostrine fasciste e soprattutto anche questa foto come a volte le foto raccontano perché di nuovo uno la guarda e vede questo signore che si china davanti al re gli stringe la mano con la pergamena del Nobel in mano nell'altra quest'atto di stringere la mano anche questo ovvio viene considerato anche questo un altro gravissimo affronto che Fermi fa perché di nuovo da come accademico d'Italia lui avrebbe dovuto salutare col saluto romano che era diciamo il saluto ufficiale della gerarchia bene comunque torniamo a noi Fermi vi ho raccontato perché poi Fermi sarebbe partito per la Columbia University lui tiene questa lezione tiene questa lezione in cui racconta questi questi risultati risultati talmente importanti come dicevo che proprio un famoso professore della Columbia University che si chiama Isidore Rabi l'avete visto se avete visto Oppenheimer è uno dei protagonisti insomma uno di quelli che consiglia Oppenheimer che poi vincerà il Nobel per la risonanza magnetica nucleare bene Rabi commenta nel 34 quando escono i primi articoli di Fermi d'ora in poi tutti dovremmo imparare l'italiano che non era certamente la lingua della scienza ma da tanto i risultati di Fermi del gruppo di Via Panisperna erano così rivoluzionari bene fra tutti questi risultati rivoluzionali poi racconta come dicevo di questi questi due nuovi elementi questo accade il 10 dicembre direi poi lui si imbarca su questo pirosco arriva i primi di gennaio negli Stati Uniti e proprio una questione di settimane quando arriva a prendere la notizia naturalmente non c'era internet all'epoca i telefoni satellitari che tre scienziati austriaci e tedeschi Lise Meitner Otto Hahn e Fritz Strassmann hanno scoperto la fissione nucleare la fissione nucleo e hanno capito che quei due nuovi elementi che Fermi più pesanti dell'uranio che Fermi pensava di aver visto in realtà sono prodotti di fissione Fermi aveva sbagliato non erano elementi più pesanti dell'uranio anzi erano più leggeri dell'uranio era la fissione nucleare non se ne erano accorti cioè banalmente perché chiaramente c'è tutta una serie di buoni motivi ma anche per qualche errore tecnico perché avevano incartato la sorgente con il domopac da carta alluminio per schermare alcune radiazioni fatto sta che in via Panisperna non si accorgono che avevano visto un fenomeno epocale che era la fissione nucleare Lise Meitner che alla vigilia di Natale 1938 pubblica un articolo su Nature che ancora adesso tra l'altro andate a guardarlo perché a volte il linguaggio della scienza è fenomenale perché può essere estremamente molto sintetico anche lì una paginetta in cui si gettano le basi della fissione nucleare questo processo che poi avrebbe caratterizzato nel bene e nel male naturalmente tutto il ventesimo secolo ancora oggi ebbene citano Fermi e dicono quello che lui ha visto è la fissione Fermi realizza questa cosa capisce che hanno ragione e a questo punto cosa fa la lezione era già data no ormai l'aveva già sentito lui il 95% i suoi risultati erano corretti quindi insomma il Nobel se l'era strameritato rimaneva questa piccola macchia no avrebbe potuto come dire far fita in niente ormai l'ho detta pazienza quante scemenze diciamo anche noi anche oggi chissà quante avevo dette io poi si dimentica poi all'epoca non c'era neanche YouTube quindi no perché adesso tra l'altro bisogna stare abbastanza attenti a quello che si dice così ma anche nei social insomma soprattutto ve lo raccomando perché poi sono cose che rimangono per sempre ma all'epoca non c'era questo problema ebbene Fermi decide invece di ammettere il suo errore cioè ha fatto l'interrogazione ha sbagliato la risposta a una domanda e se andate a vedere nel sito della fondazione Nobel la la trascrizione della sua lezione ci sono tutte le lezioni date da tutti i premi Nobel sono molto interessanti tra l'altro è una lettura che può valere la pena fare magari che ne so per esempio in maturità c'è qualche spunto qualche tesino che ci sono veramente tutti e sono molto belle alcune sono più facili alcune più difficili insomma quella di Fermi è decisamente piacevole a pagina 4 o 5 c'è un asterisco dopo una frase la frase dell'ausonio dell'esperio è una nota a piedi pagina nella nota a piedi pagina Fermi dice scusate mi sono sbagliato no cioè proprio lo scrive rimane lì ancora adesso rimane per sempre insomma ha il coraggio di ammettere il proprio errore vuoi dire era un premio Nobel tutto resta era giusto eppure rimane ecco una cosa del genere se mai potesse se mai ci potesse essere bisogno lo rende ancora più grande no voi studiate in una scuola che è intitolata un signore che ha sbagliato no ora è chiaro che se magari adesso dico che dico le vostre docenti e i vostri docenti di essere un pelo più comprensivi sugli errori dei vostri allievi ecco ricordatevi Fermi insomma mi guardano storto però anche Fermi è sbagliato e anche quindi prossima volta che gli raccontate male il secondo principio termodinamica ma non perché avete vinto il Nobel ma perché Maria la sera prima come dire vi siete persi via con la serie tv ecco anzi che studiare magari potete sempre dire ma ha sbagliato anche il professor Fermi quindi questa non so se funziona ma tanto vale provarci ecco sa mai e dunque aspettate che guardo che ore sono 11.50 fino a che ora possiamo andare avanti così mi sono regolare prego sì vabbè comunque chiaccola altri 10 minuti poi io continuo a vedere sapeste quanto mi piacerebbe suonare il pianoforte ma sono capace peccato poi tra l'altro qui c'è 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 un'amica che una delle organizzatrici è il TED di Padova qui quando abbiamo quando l'ho fatto io c'era Raffael Gualazzi non so se ti ricordi che suonava non so se fossimo in stasala non mi ricordo più se erano in stasala comunque la sarà molto grande così è suonato pianoforte è sempre bello no allora volevo raccontarvi due storie ancora in realtà il libro è pieno di storie ma insomma ne scelgo qualcuna dunque allora proviamo a fare un altro piccolo sondaggio fantascienza si usa ancora c'è qualcuno che è appassionato di fantascienza no chiedo purtroppo c'è una certa età la domanda non è per i docenti è per i ragazzi comunque fantascienza via Marte Marti Marziani almeno questa insomma Marziani via gli omeni verdi li conosciamo tutti allora voi sapete da dove arriva il la fantascienza quando nasce la fantascienza la fantascienza nasce verso la fine dell'ottocento da un gigantesco errore di traduzione intanto che lingua studiate inglese sì c'è il docente d'inglese no però ecco chiedo ai colleghi colleghi se vogliono spendere una parola per le interrogazioni inglese perché capita anche di sbagliare nell'interrogazione inglese oggi non vi pentirete di essere venuti qua perché vi do tutta una serie di strumenti per poter cercare poi di difendervi anche verso qualsiasi docente qualsiasi materia insomma ecco perché oh senti c'è anche un grande che ha sbagliato allora il grande in questione che almeno serve cioè ecco non credete non crescete con l'idea che sti grandi siano tutti perfetti tutti pulitini tutti ordinati sbagliamo tutti allora il il signore in questione si chiama Schiapparelli con una p sola in realtà è un astronomo un grande astronomo italiano è stato direttore a Brera insomma che è vissuto sostanzialmente ha operato nella seconda metà dell'ottocento quindi eravamo un po' agli albori dell'astronomia osservativa moderna insomma c'erano grandi si cominciavano a costruire grandi telescopi e più o meno quando appunto Schiapparelli è direttore a Brera si verifica questo fenomeno della grande opposizione di Marte mi pare ogni tot di anni Marte transita la sua orbita lo porta più vicino alla Terra e ogni tot di questi punti di vicinanza mi pare che sia anche qui farò un errore pazienza insomma si è scritto nel libro sarà forse ogni 80 100 anni non so c'è la grande opposizione cioè arriva particolarmente vicino ed è chiaramente soprattutto all'epoca in cui gli strumenti erano limitati era una grandissima osservazione è un momento per osservare allora Schiapparelli da grande astronomo era insomma un luminare compie queste osservazioni non c'erano ecco perché è interessante che puoi guardare sempre con gli occhi di adesso non c'erano macchine fotografiche e quindi lui guardava nell'oculare guardava Marte e l'unica maniera per registrare quello che vedeva era far disegni cioè aveva vicino la tavoletta la matita e disegnava quello che vedeva quindi chiaramente vuoi un po' l'ottica che era era precisa ma insomma comunque aveva delle sbavature vuoi un po' il fatto che comunque si doveva passare attraverso un'interpretazione del disegno la il rischio di commettere degli errori che poteva esserci e comunque non era una riproduzione come dire fotografica fatto sta che Schiaparelli era molto bravo ovviamente aveva fatto un'ottima mano anche per il disegno realizza delle mappe marziane molto molto dettagliate e tra all'epoca si usava molto e ancora adesso è rimasto poi nella nella nomenclatura astronomica dare usare la terminologia geografica della terra anche per i corpi celesti per cui si definivano i mari le montagne strutture valli così come ci sono qui sulla terra si usavano anche per descrivere in questo caso Marte lui vede una serie di striature che disegna su Marte come delle linee erette molto probabilmente sono state poi interpretate cosenno di poi come errori proprio di diffrazione dello strumento cioè di visione sua e di imperfezioni nell'ottica fatto sta che traccia queste linee parallele e le chiama in italiano canali così come aveva dato nome alle montagne ai rilievi alle valli insomma nessuno particolarmente si stupisce come su Marte ci sono le montagne e le valli ci saranno anche i canali fatto sta che poi queste osservazioni lui ripeto era uno noto era uno famoso quindi queste osservazioni fanno scalpore girano e vengono tradotte ed ecco l'interrocazione d'inglese di Schiaparelli il termine canali viene tradotto con canals cioè il termine canali viene tradotto canals che se voi sapete mentre in italiano si usa lo stesso termine per dire canali naturali e canali artificiali in inglese sono due termini diversi channels and canals i channels sono quelli il channel è quello fatto dalla natura il canale della manica è the channel i canals sono quelli fatti dall'uomo canale scaricatore in americano in inglese si chiamerebbe canale il fatto che venga tradotto da un ignaro traduttore col termine che si usa per i canali artificiali fa sì che e che soprattutto entri quindi nel mercato inglese ancora oggi per chi scrive libri essere tradotti in inglese naturalmente vuol dire accedere a un enorme mercato era vero anche all'epoca la nostra letteratura scientifica per dire è tutta scritta in inglese proprio per avere accesso a un ampio pubblico i lavori schiaparelli diventano immediatamente noti e questo termine canale immediatamente fa pensare se ci sono dei canali artificiali su Marte ci sarà anche chi li ha costruiti ed ecco che nasce la mitologia dei marziani perché ci sono i canali artificiali ci sono i marziani che li hanno costruiti e da lì in brevissimo tempo nasce una letteratura fantascientifica a tutti gli effetti che sfugge di mano proprio alle stesse osservazioni nascono come osservazioni assolutamente scientifiche era proprio di un astronomo ma poi proprio partono e quindi e tra l'altro curiosamente lo stesso schiaparelli o forse un po' colto lui stesso di sorpresa ci dà dentro nel senso che da un lato lui mantiene una plomb scientifico molto forte nei suoi testi scientifici che sono molto accurati in cui continua a parlare di queste cose come dovrebbe fare uno scienziato ma scrive anche dei testi divulgativi per il grande pubblico nei quali comincia anche lui un po' a giocare con l'esistenza di queste società e specula dicendo un po' fra il detto e non detto ma in questa geografia di Marte come che tipo di società potremmo avere mi immagino società comunitarie e lui addirittura arriva a dire la geografia di Marte farebbe pensare a società di tipo socialista da parte il pianeta rosso non poteva essere socialisti e quindi anche lui alimenta questa narrazione che in breve fa sì che nasca ufficialmente la fantascienza e quindi un errore di traduzione che è abbastanza curioso dà origine a questo fatto e nasce la fantascienza la fantascienza nasce da un'interrogazione sbagliata in inglese in poche parole ce n'è un'altra che però magari se leggete il libro non posso raccontarla perché sicuramente c'erano dei minorenni tra voi e quindi lasciamo perdere ma c'è ma è una cosa che fa sorridere insomma naturalmente non c'è niente di strano e invece l'altro aspetto visto che insomma è già mezzogiorno su cui diante due un paio di storie che vorrei raccontarvi Gardaland siete stati a Gardaland? Gardaland ci sono le montagne russe sapete da dove deriva il termine montagne russe? da Russia ovviamente sembrerebbe strano le montagne russe fossero state inventate in Pakistan però in realtà c'è una storia dietro ed è la storia che viene dal XVII secolo per la regina Caterina se non sbaglio che usava si usava nelle ville dei nobili ovviamente in Russia c'era neve costruire un po' c'erano naturalmente un po' anche artificialmente delle montagnole delle montagne di neve appunto delle collinette da cui i nobili usavano giocare scendendo con delle diciamo delle slitte diciamo come dire antelitteram di legno o di stoffa e quindi divertendosi andare su e giù magari facendo anche dei percorsi partendo dall'alto in maniera tale come accade effettivamente nelle montagne russe questo viene poi nell'Europa dell'epoca arriva in Francia dove mi pare nell'ottocento vengono realizzate invece le prime montagne russe meccaniche cioè non fatte di neve perché quelle originali sono proprio montagne vere montagnole vere di neve da cui la gente giocava e vengono realizzate invece con diciamo in maniera abbastanza simile a quelle che vediamo oggi perché vi ho raccontato questa storia perché anche qui c'è un errore curioso che ha a che fare invece con un errore di conversione e qui di nuovo torniamo alla fisica voi sapete che ci sono c'è un sistema di misura un sistema di unità di misura che è il sistema internazionale metro chilogrammo secondo le sapete le sette unità perché ve lo chiedono questo secondo me è una domanda maturità questa no troppo semplice però sono importanti pensate che queste sette unità di misura allora prima di vedere se ce le ricordiamo metro chilogrammo secondo vediamo è per tutti questo vediamo vediamo quante si arriva sono come i sette nani chi si ricorda i nomi i sette nani sette nani sette unità di misura siamo arrivati al secondo poi metro chilogrammo secondo questo è facile dai ampere ampere abbiamo sentito ampere siamo a quattro prego kelvin kelvin è esatto kelvin è corretto siamo a 5 ho sentito volt e ohm e quello in realtà no sono unità di misura ma sono secondarie infatti il volt è l'unità di misura del sistema anglosassone per l'elettromagnetismo nel sistema internazionale c'è l'ampere ce ne mancano ancora due la mole esatto perfetto che è l'unità di misura di quantità in materia e la candela ecco che è venuto non so se la signora mi sembra una ripetente in fondo la candela che tra l'altro ha a che fare con la candela tra l'altro è la misura di intensità luminosa e questa visto che siamo qui vi racconto perché insomma il senso di tante delle storie del racconto è che la scienza è fatta da esseri umani da persone che insomma cercano ovviamente di essere oggettivi e oggettivi ma a volte sono comunque condizionate o condizionati della propria umanità la candela è un po' un'unità abusiva in realtà tra le sette perché le prime sei che abbiamo detto sono tutte indipendenti sono oggettivamente indipendenti in realtà la candela è una misura di intensità luminosa quindi è sostanzialmente energia o potenza secondo che volete luminosa per unità d'area quindi in teoria potrebbe essere dedotta dalle altre unità e in effetti la candela si riferisce come il nome stesso non a caso per la misura dell'intensità luminosa nel visibile cioè quella luce a cui il nostro occhio è sensibile se ci pensate se avete una qualsiasi alta forma di radiazione elettromagnetica ultravioletto infrarosso non si misura in candele si misura in watt per metri quadri o insomma in altre unità ma non cioè in unità derivate le candele si riservano e chi ha qualche anno in più vedo che come me c'è anche qui qualche altro ripetente insomma vi ricordate le lampadine una volta si dicevano una lampadina da 60 candele proprio perché era l'unità di misura infatti mentre adesso sono in watt o in lumen ma era l'unità di misura della luce visibile e quindi questa unità che di cui non ci sarebbe strettamente bisogno è un retaggio della nostra umanità perché la luce è talmente importante per noi la luce che vediamo se pensate anche che noi veniamo alla luce quando nasciamo e chiudiamo gli occhi al mondo quando moriamo alla luce il buio e così via cioè la luce sostanzialmente identifica tutta la parabola della nostra vita che abbiamo sentito bisogno di dargli un'unità di misura anche se non era strettamente necessaria nel sistema fondamentale ma la settima unità di misura è la candela e nel frattempo mi ero totalmente perso di cosa stavamo parlando di delle montagne russe vero? delle montagne russe dell'unità di misura no c'è stato questo enorme errore a Tokyo in un grande questo molto più recente in un grande sistema in montagne russe in cui hanno ordinato dei pezzi di ricambio ma le montagne russe erano state costruite quando ancora in Giappone si usava il sistema di unità di misura anglosassoni poi a un certo punto sono passati al sistema metrico e in poche parole hanno fatto confusione cioè nelle specifiche tecniche erano ancora indicate le unità di misura dei pezzi di ricambio dei cuscinetti in particolare in pollici e chi le ha lette 10-15 anni dopo pensava che fosse era abituato a usare metri o centimetri e quindi l'ha usato nel sistema metrico questo ha fatto sì che fosse un po' lasco il sistema di giunzione proprio tra l'asse le ruote del carrello e c'è stato un incidente per fortuna non si è fatto male a nessuno ma è volato fuori un carrello un carrello da questo sistema e poi è stato tecnicamente ricostruito che era proprio dovuto al come si dice al sistema di a un'errata conversione di queste storie anche qui andate a cercarle un po' l'ho scritta anche nel mio libro precedente che le sette misure nel mondo abbiamo schiantato un satellite una sonda spaziale su Marte per un errore in conversione da Houston gli mandavano le misure in pollici e in cioè nel sistema imperiale e chi aveva programmato il calcolatore che stava nella navicella l'aveva programmato in sistema metrico quindi anziché Newton usavano libre forza e le libre forza sono quattro volte Newton e quindi praticamente accendevano i motori sostanzialmente in maniera molto più potente di quello che era necessario e sono andati a schiantarsi ma siccome adesso vedo che siamo alla fine vorrei raccontarvi un'ultima storia che ci riporta un po' indietro nel tempo parecchio indietro siamo nell'anno 1000 più o meno ma è la storia una storia che a me piace molto perché poi alla fine un po' sto libro lo scritto anche per vedere un po' la storia della scienza ma anche la storia nostra dalla parte di chi è sbagliato dalla parte di chi perde e secondo me è molto interessante e allora se mi date un secondo cerco la citazione letterale perché vale la pena trovarla solo un secondo che la cerco qui nell'indice ecco dunque siamo nell'anno 1000 medioevo queste abbazie i monaci siamo in un'abbazia in Inghilterra un'abbazia benedettina e una grande sapete le abbazie inglesi insomma sono molto importanti e c'era un signore c'era un monaco che si chiamava Oliviero di Malesbury perché Malesbury era proprio il nome del paese dove c'era l'abbazia e aveva un confratello che narra le sue geste sapete motto benedettino orat labora benedettini erano grandi emanuensi scrittori e lascia scritto in questo libro che si trova ancora gesta regum anglorum questo suo confratello Guglielmo Imesbury lascia scritto una una cronaca di quello che succedeva in quegli anni e tra cui anche questa storia che riguarda il suo confratello Oliviero che leggo proprio testualmente anno 1000 c'è questa cattedrale che ha una torre campanaria che è alta oltre una cinquantina di metri bella alta era per quei tempi istruito di età matura e nella sua prima giovinezza aveva tentato azioni di grande audacia questo era diciamo Oliviero parla scusate Guglielmo parla del suo confratello di frate Oliviero in qualche modo nel suo poco a proposito aveva fissato delle ali ai suoi piedi e alle sue mani così da poter volare come Dedalo equivocando la leggenda come verità perché Oliviero era un grande appassionato di mitologia greca di storia conoscevano i miti no? era un uomo d'otto un uomo di cultura aveva letto il mito di Dedalo Icaro e pensava di volare no? equivocando la leggenda come verità lui aveva pensato che si potesse volare no? questo grande sogno lui davvero voleva errare voleva andare oltre voleva volare e quindi se c'era fatta Dedalo ha detto si costruisce anche lui la macchina volante attenzione siamo 400 anni prima dei primi disegni di Leonardo che pure neanche lui le ha fatte no? e comunque l'Oliviero equivocando la leggenda come verità e qui arriva la parte interessante e con il vento in favore dalla sommità della terra della torre scusate quindi da una cinquantina di metri volò per più di uno stadio circa 200 metri ma scosso dalla violenza del vento e della turbolenza dell'aria e della consapevolezza del suo sconsiderato tentativo cadde si ruppe entrambe le gambe e rimase zoppo per tutto il resto della sua vita lui stesso usava dire che la causa del suo fallimento fu di aver dimenticato di fissarsi una coda nella parte posteriore del corpo allora probabilmente non era l'unico motivo di fallimento la mancanza della coda ecco però è molto interessante tutto questo perché lo riprendo scusate è a mio giudizio proprio come dire il manifesto proprio della voglia di scoprire della voglia di andare oltre delle passioni cioè questo signore era un uomo istruito e di età matura era un monaco era probabilmente uno dei maestri del convento lui avrebbe potuto rimanere nel suo convento venerato a studiare a essere comunque una persona di riferimento eppure nonostante fosse istruito e di età matura c'era anziano voglio dire lui decide di buttarsi a torre cioè lui decide di volare che non è una cosa a poco cioè vuol dire lui vuole provare vuole andare oltre cioè è di nuovo il manifesto della scienza insomma vuole passare i confini e lo fa e la cosa lo fa e poi alla fine gli va anche bene voglio dire si va buttare 50 metri con tutta l'area dell'anno 1000 e si è solo rotto le gambe cioè come si direbbe gli è andata il culo insomma tutto sommato ma la cosa interessante è che mentre lui è in volo scosso dalla violenza del vento dalla turbolenza dell'aria e dalla consapevolezza del suo sconsiderato tentativo cioè io mi immagino questo anziano monaco chissà se si è cavato la tonaca o si è buttato pure con quella che vola lì in cielo dell'Inghilterra e dice cazzo cosa ho fatto mentre lì vedo però questo lo rende di un'umanità secondo me davvero strepitosa perché tutta questa storia è veramente molto bella perché un po' l'ho lasciato apposta la fine perché un po' insomma un messaggio un auspicio che vi auguro quello di essere dei modi come frate Oliviero insomma prendetelo un po' come modella non buttatevi giù dalla torre ovviamente sia ben chiaro ma a volte occorre anche rischiare nella vita nella scuola andare un po' oltre poi nelle scelte che farete nella vita insomma uscire un po' dalla zona di comodità no lui è uscito dalla sua zona di comodità e ha deciso di esplorare di andare oltre ecco se posso lasciarvi un augurio naturalmente oltre a quello di essere felici che è la cosa più importante ma anche quello di provare a esplorare e di andare anche oltre e sono certo che tra l'altro poi i vostri insegnanti e le vostre insegnanti vi aiuteranno in questo bene grazie buona giornata e se avete domande naturalmente qui c'è la gomma pane tra l'altro ho imparata stamattina una mia amica che fa l'artista ma sai come funziona la gomma pane no abbiamo anche questa prego sì c'era qualcuno buongiorno volevo solamente chiedere se ha magari se si potrebbe raccontare come nella sua vita ha sviluppato il suo rapporto con l'errore eh sì può dire domanda più semplice non si può ha ragione no ma sto scherzando e cosa vuoi fare ho usato un sacco di gomma pane di gomma anche di quella da cancellare la birra purtroppo perché sai anch'io sono assolutamente come tutti noi diciamo ci sono ho sbagliato molto naturalmente anche io nella mia vita e c'è un aspetto fondamentale perché poi visto che mi hai chiesto questo no la difficoltà davvero forse più forte e questo lo dico anch'io per esperienza personale nel nostro rapporto con gli errori è quello di saperli riconoscere perché chiaramente non è facile perché ci va di mezzo l'amor proprio perché si pensa sempre di aver ragione pensate anche nei rapporti con i familiari no con i amici fratelli sorelle compagni e compagni genitori insomma no ognuno di noi pensa sempre di aver ragione e invece nella maggior parte dei casi non è così e quindi il saper riconoscere il proprio errore è una cosa importante tant'è che questa tua osservazione diciamo mi dà anche l'occasione per raccontare un'ultima cosa ecco un messaggio che non va portato a casa è un messaggio come dire di relativizzazione no nel senso che non è che vada tutto bene sia chiaro no ci sono errori vabbè c'è l'errore sul secondo principio della termodinamica e pazienza al massimo è un 5 no ma ci sono errori invece che possono ferire che possono addolorare che possono anche in taluni casi causare la morte no e pensate anche che ci sono errori che il nostro codice penale la nostra vita comunitaria addirittura punisce con la prigione no e quindi è molto importante che noi come dico non lasciamo l'errore da solo cioè ne prendiamo consapevolezza e da quello cerchiamo di imparare guidati anche da un aspetto che secondo me è estremamente importante voi immagino o no nel vostro corso di studi senza dubbio leggerete o parlerete della Costituzione della Repubblica italiana la nostra Costituzione c'è un articolo molto importante che ha a che fare con l'errore che è l'articolo 27 che è quello che disciplina sostanzialmente l'aspetto delle pene e che dice che appunto il fine adesso potrei tirarlo fuori per leggere in maniera letteraria ma faccio una parafrasi ma che comunque è chiara che sostanzialmente qualsiasi tipo di pena prevista dal nostro ordinamento giudiziario deve sempre tendere alla rieducazione dico lei o di colui che ha commesso il reato e che il nostro ordinamento in ogni caso proibisce la pena di morte che per definizione chiaramente la condanna rispetto a un errore che mette fine ovviamente a qualsiasi possibilità di recupero questo se ci pensate ha una come dire ha una valenza estremamente importante sulla quale insomma sono sicuro avrete modo di ragionare anche a scuola con i vostri insegnanti e i vostri insegnanti perché non è assolutamente banale non è scontato cioè anche chi commette gli errori peggiori per la nostra carta costituzionale cioè per il documento che fonda il nostro vivere insieme ha diritto ad avere comunque un'altra possibilità cioè ad essere cioè a poter elaborare dopo aver riconosciuto elaborare quest'errore e andare oltre e questo fatta attenzione non è scontato cioè perché se è scontato dire vabbè oggi ho detto una stupidaggine sul secondo principio termodinamica la professoressa e il professore mi interroga fra tre settimane recuperano ho preso 5 arriva 8 se cominciate a pensare invece a chi magari si è macchiato di crimini molto gravi ci viene molto meno scontato questo pensiero tant'è che spesso si legge anche sui giornali pene esemplari c'è chi invoca la pena di morte ci viene un po' quest'anima giustizialista però attenzione perché di nuovo anche di fronte agli errori più gravi la Costituzione riconosce il diritto alla rieducazione alla comprensione dell'errore quindi è una riflessione che insomma vale la pena di fare dopodiché appunto poi per i miei errori io ho detto dico sempre scherzando un po' sto libro scritto anche scritto da motivazioni autobiografiche un po' per cercare di elaborare un po' tutti quelli che ho fatto ne ho una bella lista ecco in privato ma ritenerà conto qualcuno innanzitutto grazie prego allora nel momento lei stessa ha detto bisogna aprirsi al rischio e quindi all'errore solo chi non fa non sbaglia però bisogna fare anche attenzione al livello di errore ci sono errori più o meno gravi e rientriamo nell'ambito tra prudenza e rischio e quindi la domanda che volevo farle era secondo lei per cosa vale la pena aprirsi al rischio e quindi all'errore per cosa vale la pena essere prudenti quindi fare attenzione anche agli errori che si fanno beh anche questa come la sua non è una domanda con una risposta molto semplice no perché è chiaro che voglio dire se io anziché stare qui oggi avessi fatto tutta la chiacchierata stando qui camminando avanti e indietro qui il concetto di prudenza come dice lei mi avrebbe suggerito che forse la possibilità di fare un errore cascata giù e farmi anche male era tutto sommato alta e allora era solo per dire che chiaramente non c'è una risposta univoca o meglio ci sono delle situazioni in cui la risposta ovviamente univoca se guidiamo l'automobile o il motorino è opportuno cercare di minimizzare le cause di errore quindi guidare con prudenza rispettare i limiti di velocità stare attenti non guardare il telefonino mentre si guida insomma una serie di cose di questo genere dove spingere il confine è chiaramente se vuole come dire uno dei grandi interrogativi della vita insomma a cui ciascuno poi trova la sua risposta perché non ce n'è uno uguale per tutti quello che per eh sai di nuovo non è che stia cercando di eludere la domanda ma davvero dipende da situazione a situazione perché la mia è stata quella di uno che in taluna di situazioni si è buttato in un altro ha avuto paura anche qui poi non abbiamo avuto tempo di raccontare ma ci sono storie di scienziate e scienziati che hanno avuto paura pensiamo a essere umani no? C'è questo Riccioli questo allievo di Galileo lui è un gesuita e nel 1600 è il primo dopo Galileo cioè dopo le teorie di Galileo a fare con esattezza le misure delle moto di caduto di gravi no? è veramente è un gesuita ma è anche un uomo molto illuminato eh lui di fatto scopre 150 anni prima di Corioli l'effetto Corioli che è uno degli effetti classici che oggi si insegna probabilmente anche anche al liceo ma senza altro il primo anno in università che è legato al moto della terra ma lui è un tolemaico e la sua parte diciamo religiosa prevale a paura sostanzialmente perché la sua testa gli dice caspita qua non torna che la terra sia ferma no? però d'altra parte si fida di più dell'autorità rispetto rispetto al suo intuito alla sua scienza ecco come dire questo è uno dei casi in cui forse la prudenza non ci sarebbe voluta ma d'altra parte come facciamo a giudicarlo pensando che se fosse andato oltre poteva scottarsi ma letteralmente nel senso che lo mandavano su rogo insomma a quell'epoca non era una cosa a poco quindi no non ho una vera e propria risposta ecco a queste cose direi che in generale nel momento in cui non ci si mette in pericolo no? fisicamente o ad altri il mio auspicio e guardo soprattutto ragazzi più giovani così vale la pena rischiare insomma vale la pena andare oltre vale la pena fare cose cose diverse inaspettate anche perché poi c'è un altro aspetto rispetto a quello che lei dice un parametro di scelta a mio giudizio è molto importante torno al pianoforte che oggi è diventato il nostro strumento pianoforte come vedete come sapete insomma è fatto di una serie di tasti bianchi e neri pianoforte binario bianco o nero in realtà la vita non è assolutamente fatta così è piena di sfumature di grigio tipicamente nelle sfumature di grigio ci sono le cose più interessanti c'è anche dove c'è la maggiore possibilità di commettere gli errori ma ecco ricordarsi sempre che la vita è fatta di un sacco di sfumature di grigio e che il bianco e nero non sono le uniche cose che contano è un aspetto molto importante per me dopo di che vorrei avere la risposta alla sua penso che dispenserei felicità ma ahimè al massimo posso dispensare solo qualche chiacchera ma di più secondo principio termodinamica cosa sta studiando adesso in questo momento come è cominciata la quinta fisica prego magnetismo lo sai vero no no tu 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 dai facciamo bella figura una legge di magnetismo la sai una perfetto forze di Lorenz portate da forze di Lorenz forza di Lorenz cioè se noi adesso abbiamo tutta questa luce è per la forza di Lorenz no qui c'è adesso devo stare molto attento perché dico un sacco di castronerie qui non dico chi è ma c'è una mia collega che è un'ingegnere elettrica insomma molto molto brava e quindi io invece sono povero fisico quindi devo stare attento alle sciocchezze che dico soprattutto in campo elettrotecnico ma sulla forza di Lorenz sono basati sostanzialmente i generatori di energia elettrica no c'è c'è un oggetto che si muove un oggetto di metallo di rame no che si muove dentro un campo magnetico e e genera appunto una una forza poi una come si dice una differenza di potenziale l'esperimento di Faraday se volete no poi alla fine era era legato anche a questo comunque tu ti chiami scusa Jacopo con Jacopo mi raccomando prendere nota se possibile insieme a lui ecco qui dispensiamo dispensiamo 8-9 siamo generosi un più un più no un più dai anche Fermi sbagliava basta ormai siete rovinati mi raccomando usate la comprudenza sta roba che Fermi sbagliava una volta sola avesse dopo sentite direi che a questo punto allora possiamo salutarci grazie grazie ancora e naturalmente in bocca al lupo per per quest'anno importante soprattutto cercate di essere felici ecco anche di far bene a scuola ma insomma se siete felici è meglio